Così fitti. A che servono i prospetti così fitti di nomenclature dei piani superiori di esistenza di cui parlano alcuni maestri immateriali? Commento. I prospetti sono un esempio della complessità di quei piani. La complessità è superata quando l'essere abbandona la mente e raggiunge gli stati di coscienza in cui vige quella complessità.